ciao sono ottonietta oggi facciamo un braccialetto tipo questo o meglio una maglia tubolare di tipo metallico come questa per costruirla utilizzeremo una caterinetta spero vi piaccia ciao quella che vedete è una caterinetta cosiddetta caterinetta anche questa è una caterinetta un po diversa è una variante ecco qua è uno strumento in questo caso realizzato in legno con dei pioli attorno ai quali si avvolge il filo e si crea in questo modo una maglia che passa qui dentro si forma qui dentro in questo foro passante e diventa una maglia tubolare intrecciata che si può fare con vari tipi di tessuti con la classica lana il cotone la fettuccia quello che si desidera in questo caso noi useremo del filo metallico il filo metallico che si trova in vendita nei negozi che hanno materiali per bijoux è un filo da 04 che mi sembra essere la misura ideale per questo tipo di lavoro e diciamo se non trovate questo attrezzo che si trova comunque normalmente in vendita in merceria potete provarlo a costruirlo poi ci sono molti sistemi io ne propongo uno in un tutorial adesso vi metto il link di questo tutorial ed è serve per realizzare quello che vedete una un rocchetto praticamente di legno con questi pioli per intrecciare allora ci vorrà molto filo quindi è difficile dire quanti metri di filo ci verranno ci vorranno per esempio se volete fare un giro collo avrete bisogno di non meno di 5 metri di filo poi il filo dipende da una serie di fattori dal numero dei pioli dal diametro di questo foro centrale dalla tensione che abbiamo noi dalla mano che abbiamo noi nel tenere il filo quindi non sapendo esattamente con precisione quanti metri di filo useremo facciamo in questo modo io ho comprato un rocchetto come vedete anziché tagliare il filo anziché tagliare un pezzo e poi magari rischiare di fare un lavoro che non serve io tengo il filo avvolto questo è il fermo sapete del rocchetto lo tengo in questo modo mano mano che mi serve il filo svolgo il filo da qui e prelevo un altro pezzo senza tagliare però può essere un po scomodo però è un metodo sicuro per non fare errori diciamo in questo modo allora adesso vi faccio vedere come si comincia il lavoro allora vi servirà anche un punteruolo oppure come questo caso anche un uncinetto allora prendiamo il filo metallico lo facciamo passare dall'alto all'interno della caterinetta e lo facciamo uscire per un pezzetto per un pezzo in questo modo facciamo così e lo teniamo fermo lo fermiamo adesso possiamo cominciare ad avvolgere i fili attorno ai pioli faremo in questo modo facciamo un giro attorno ad un primo piolo poi passeremo attorno ad un secondo piolo sto andando in senso anti orario vedete poi di nuovo attorno al terzo e poi ancora attorno al quarto in questo modo abbiamo fatto un giro completo ricominciamo attorno al primo al secondo al terzo e al quarto la pressione la tensione cioè del filo è direi normale senza esagerare senza tirare troppo allora adesso ricominciando con questa con il giro anti orario dobbiamo accavallare le maglie prendiamo l'uncinetto afferriamo la prima maglia dopo quella dopo l'ultima eseguita la maglia di sotto e la accavalliamo su quella di sopra accavalliamo e la portiamo fuori ripetiamo la stessa cosa e tiriamo sotto guardate tiro un po sotto per fermare ecco questa prima maglia leggermente tiro ricominciamo seconda maglia quella di sotto su quella di sopra tiriamo un po leggermente ancora terzo piolo maglia di sotto su maglia di sopra naturalmente questo è un lavoro che non riesce non si riesce a fare su un tavolo bisogna avere una posizione un po più comoda però tanto per mostrare come si svolga va bene anche così adesso fatto un giro vediamo se riusciamo a tenere si di solito si riesce ad abbassare alla fine del giro provate si riesce ad abbassare un po di più ad abbassare a portare all'interno del foro la maglia ricominciamo con il giro di maglie attorno al prossimo piolo giriamo una volta due volte tre volte quattro volte così e riprendiamo ad accavallare le maglie la maglia di sotto sulla maglia di sopra così maglia di sotto ok in tempo reale quindi ci vuole un po di tempo su maglia di sopra ancora maglia di sotto poi probabilmente tendono un pochino a scappare ma è una cosa del tutto naturale su maglia di sopra maglia di sotto vediamo se scende un pochino un pochino sì se no ci aiutiamo in questo modo riprendiamo il giro vedete il giro è sempre questo un giro attorno ai pioli e il seguente per accavallare le maglie adesso sto di nuovo accavallando ho terminato un giro quindi farò in questo modo scusate se la mano copre ma è inevitabile ecco qui una maglia sull'altra di nuovo una maglia sull'altra in questa maniera ripeto sul terzo piolo qualcuno scappa sempre è normalissimo e poi di nuovo sul quarto in questa maniera poi spingo un po giù la maglia delicatamente vedete che scende un pochino delicatamente perché poi magari si allungano troppo le maglie riprendo il giro attorno ai pioli uno due tre e quattro mi fermo e a cavallo uno vediamo se scende un po' due comunque ho trovato che fare scendere la maglia alla fine del giro completo sia un pochino meglio se si riesce se non da fastidio se non da fastidio tenere i fili così durante il lavoro la maglia viene leggermente più regolare di nuovo a cavallo e a cavallo l'ultimo in questo modo faccio scendere un po' la maglia vedete si sta formando questo tipo di catenella che esce da sotto e intanto ho già consumato pensate qui ho tagliato per poter fare una chiusura e ho già consumato circa 4 metri di filo solo per fare questo quindi immaginate allora adesso ci prepariamo per fare una chiusura possibile vi faccio vedere come si possa terminare per chiudere solleviamo facciamo uscire gli anelli gli occhielli dai pioli li solleviamo verso l'alto in questo modo vedete e facciamo uscire l'intera maglia in questa maniera o avvicino un pochino gli occhielli in questa maniera e poi li unisco quasi diciamo cucendoli insieme con il pezzo di filo avanzato passo all'interno di tutti gli occhielli in questa maniera ecco qui così anche nel terzo e nel quarto ho fatto un giro posso anche fare più giri se voglio così e poi negli ultimi due adesso ho alcune opzioni possibili se il filo avanzato qui è molto si potrebbe anche avvolgere e creare un tipo di chiusura un po' rustica però che ci sta con questo tipo oppure possiamo prendere un pezzo di filo leggermente più spesso di questo io sto usando un 60.06 fare un uncino agganciare proprio la parte terminale passiamo in un punto che sia comodo ecco agganciare la parte terminale in questa maniera questo filo sottile lo mettiamo un attimo da parte chiudere allora farò una chiusura volta con il filo in questa maniera un paio di volte un paio di giri in questo modo taglio vedete poi prendo il filo corto e lo avvolgo bene attorno a questa ultima parte per nascondere diciamo le le magagne chiamiamole così naturalmente se il filo è lungo si può fare un lavoro anche più più curato portiamo termine portiamo alla fine avvolgiamo bene vedete in questa maniera stringo quest'ultimo lembo avete visto è un po' come direbbero gli inglesi un po' organic questa fine però va d'accordo con il tipo di catenella e poi formo un occhiello dipende la grandezza insomma dipende da quello che vogliamo agganciare qui possiamo agganciare possiamo fare entrare una chiusura per esempio sto formando un occhiello vedete ok si vede taglio scusate il rumore taglio comprimo ecco questa è una chiusura possibile vedete è anche possibile dopo aver avvolto tutti i fili attorno come avete visto e prima di formare questo occhiello inserire all'interno uno di quei terminali a cono che si trovano in commercio facilmente e soltanto dopo aver inserito il terminale a cono creare l'occhiello al prossimo video ciao 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 ciao